Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale, sono qui in compagnia di mia moglie e oggi ci facciamo una partita a Dungeon & Dragons, un'avventura fantasy. Le faccio giocare la prima missione del gioco. In Dungeon & Dragons, un'avventura fantasy, ci devono sempre essere 4 eroi e il Dungeon Master. Quindi nel caso si giochi in 5 giocatori, un eroe a testa. Ma nel caso si giochi come noi, praticamente si fanno il 90% dei casi, in 2, uno deve fare Dungeon Master, che in questo caso lo farò io, e lei muoverà tutti e 4 gli eroi. Eroi che poi ora vedete in campo, tanto che dovranno andare a posizionare, che sono il Chierico, il Guerriero, la Maga e la Ladra. Ora, ciascuno di loro può fare le varie azioni che ora ti dico, tanto al giro del primo turno, e ciascuno di loro ha un'abilità una o più azioni speciali. Ad esempio, il Guerriero, ce l'ho anche scritto qui, lo guardo da qui, come azione speciale che sarebbe Redgar. Lui come azione speciale aggiunge un punto extra all'attacco in corpo a corpo, quindi fa una ferita extra, ok? Quando te esce un risultato di colpito, lui ne ha tirato uno in più. Non è un'azione, perché è un'azione passiva, mettiamolo così, è un bonus passivo. La Ladra ha muoversi furtivamente, che le consente di passare anche attraverso unità nemiche, perché sennò te non puoi mai passare sopra un nemico. Invece lei lo può fare, con azione furtiva. E poi può disinnescare le trappole. Le può anche cercare. Sì, cercare e disinnescare. Il Chierico può scacciare non morti, solo non morti, quindi gli altri mostri no, e in più ha come azione speciale guarire. Puoi guarire un punto ferita a ciascun eroe che dice che si trova in una casella adiacente alla tua, quindi se magari uno è accanto e il Chierico gli è accanto così, per ogni punto magia che levi dal Chierico gli dai un punto ferita, ok? Un punto ferita per un punto magia. E poi c'è la Maga, che invece come azioni speciali nessuna, quindi non ha niente di speciale, però lancia l'incantesimo, incantesimo che è là giù. Dardo incantato, la carta quella lì. Ora, prima di tutto inizia a metterti un po' di puntini sul massimale dei punti feriti e dei punti magia per il loro livello. Quindi sì, sul giallo e sul livello 1 della magia, che è l'arancione. Questo qua? No, 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 al 5. Al massimo, vedi, sono tre colori. Mettilo al primo colore. Poi lì glielo mette al 5 e loro non hanno punti magia, quindi a 5 e a 8, il guerriero che ce n'ha di più. Comunque, se qualcosa non ti torna alle volte, le carte che hai messo qui accanto ti danno una spiegazione di cosa può fare. Basta, per il resto gli equipaggiamenti che hai sono lì, ok? E nient'altro. Ora, visto che il gioco non è un cooperativo, ma te giochi contro di me, cioè io sono proprio il Dungeon Master che ti deve far perdere l'avventura, io ti devo bloccare. La mia missione è quella di ammazzarti tutti gli eroi, ok? Ora tanto ti leggo l'introduzione. Ricordati che le azioni che puoi fare sono due a turno per ciascun giocatore, puoi fare anche due volte la stessa. Io no, io come Dungeon Master posso attaccare una volta sola. Ti invece puoi attaccare due volte, muovere due volte, puoi fare anche due volte la stessa. E le azioni che puoi fare, a parte le azioni speciali, sono spostamento, quindi movimento. Aprire una porta, quindi anche aprire una porta costa un'azione. Combattere con un'arma o con un incantesimo, insomma combattere in generale. Aprire un forziere o scambiare un oggetto. Ne scambi una alla volta, eh? Non è che li puoi scambiare tutto quanto l'etipaggiamento. E in più, tutte le altre abilità speciali ti costano uno. Niente di più, niente di meno. Ora, ah, i tuoi eroi partano da questa stanza qui. Ora ti devi allungare un pochino, come le vuoi mettere. Le puoi mettere dove ti pare, eh? Le puoi mettere anche sulla porta, le puoi mettere. Buttali in qualsiasi casale, basta che siano dentro quella stanza. Non ce la faccio allungarli fino a lì. Inizio della missione che si chiama I Banditi Goblin. Angoscia e oscurità sono piombate sulla terra di Rallion. Mentre i mostri devastano la regione. Dopo averla attraversata, gli eroi giungono al villaggio di Ulbruck, ai margini della foresta. Dove gli attacchi dei goblin hanno terrorizzato a morte gli abitanti del villaggio. Lo sceriffo di Ulbruck è andato a cercarli, ma non è più tornato. I goblin sono probabilmente all'origine della sua scomparsa. Obiettivo, quindi tuo, degli eroi, sconfiggi tutti i goblin. Quindi te devi ammazzare tutti i goblin che ci sono. Dal primo all'ultimo. Praticamente devo fare pulizia di tutte le stanze qua. Devi fare pulizia di tutte le stanze che ci sono qui. Quindi non ci sono ancora mostri rivelati. Quindi te sei dentro quella stanza, non ci sono scrigni, non c'è niente. Se no te l'avrei messo. L'unica cosa che vedi è la porta. Però ci potrebbero essere trappole. Ad esempio, capito? Ora te gli eroi muovili come ti pare. Però prima finisci tutte le azioni di uno. E poi fa le azioni dell'altro. In generale lei cerca trappole. Sì, lo so, lo so. Lui picchia da morire. Lui cura e lei ha Dardon Cantata. Lei difende, ha i macchini di difesa. Sì, lei è più supporto. Vabbè, muovo l'idda. Prima movimento, dove vai? Allora, aspetta, mi alzo io. Non è meglio se è la prima parte, ma è di qua. No, è una parte... Allora, lei ha sei punti in movimento. Esatto, ah, non te l'ho detto. Movimento, difesa e borsa. Borsa, che puoi portare? Vabbè, sei punti in movimento. Cosa dice qua la scheda? Cercare trappole. Puoi cercare trappole in una stanza, tirando il dado, cerca trappole. Che sarebbe questo qui? Quello lì, sì. Quello lì con gli occhi. Allora, cerco le trappole. Allora, prima azione... Io voglio muoverla. Perché? E se ti muovi, picchia una trappola. Tutta in una stanza, ovviamente. Ok, vabbè. Tiro il dado. Niente. Non hai... No, non hai trovato niente. Però quando ti esce questo risultato, non hai trovato niente. Però magari le trappole ci sono. Appunto. Posso rifare una trappola? Sì, fino a che non esce la mano sul dado. Sto. Ok, questo simbolo qui... Dell'occhio, un occhio. Vuol dire che ti hai trovato la prima trappola più... Aspetta, un attimino. Più vicina a me. Aspetta, aspetta. Questo simbolo dell'occhio vuol dire che ti hai trovato la prima trappola più vicina a te. Non ce ne sono. Quindi, ora c'è la sicurezza che dentro la stanza non ci sono trappole. Però siccome erano due azioni per lei, io sono finita. Lei ha finito il turno. Lei ha finito il turno. Io direi di muovere, che è questo Red Guard, che sarebbe lui... Che è il guerriero. C'ha quattro punti in movimento. Quindi uno, due, apri la porta. Apri la porta, che vabbè, si andrebbe girata così, si può anche elevata tranquillamente. Vabbè, comunque... Ok, ora che ha aperto la porta... Sì, è finito le azioni, perché anche lui le ha finite. Ora devo rivelare... Sarebbe meglio se non mi metti ci ve le diro, queste eredole in avanti. Ti faccio vedere le... Che prendo quelle lì. No, 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 ora no. Sto partito a me la voglio fare proprio con le componenti del gioco. Comunque, ora ce lo metto è quello che c'è. Allora, c'è una porta chiusa qui. E qui c'è un Goblino, lo posso mettere dove mi pare, col numero 3. Quindi ora lo vado a cercare, Goblin 5. Dammi un attimino il tempo di trovare la carta. Goblin 3. È lui. Ed è una creatura che ha armatura 1, vita 4, movimento 5. Quindi lui è qui. Quello che vedi dentro la stanza, fammi rivedere i piani di faccavalate, no. Quello che vedi dentro la stanza è questo. Quindi c'è quel mostrino lì. Lui ha finito le azioni. Gli altri li possono passare sopra, perché è un eroe. Se fosse un mostro, no. Ci può passare solo la ladra con il movimento furtivo. Però aspetta un attimo, perché lei ci va una cosa bella. La ladra. Col movimento furtivo, che mi sembra che se li passava oltre e lo attaccava... Gli doveva più uno. Eh, però guarda un attimino. C'è scritto qua. C'è scritto? Muoversi furtivamente. Può passare attraverso un mostro e se lo attacca nello stesso turno, aggiunge un punto al muro sorteggiato. Perché lo pugna la danno nascosta, sì. Ok. Allora, Redgar rimane lì. Ah, ora c'è da fare un'altra cosa. Quando si apre una porta, automaticamente vanno date le iniziative. Ok? Tutte le volte che apri una porta. Quindi, perché questo turno ci dovrebbe essere i tuoi leggi ammossi. Ora ti va di culo che ci sta che le rimuovi subito. Perché ogni volta che apri la porta, va mescolato il mazzo dell'iniziativa. Lo dovrebbe fare il giocatore, ma lo può fare anche il Dungeon Master, uguale. E bisogna dare le carte coperte. Quindi faccio una, due, tre, quattro. E la quinta è mia. No, 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 leggerà, non leggerà. No, le sto rimettendo a posto perché me le hai messe sopra i punti. Io ho un tre. Questa, Redgar ha un quattro. Tu mi la lasciate sopra. Eh, perché se no così poi si invano gli equipaggiamenti. Allora. Lì da uno. La metto qua sopra. Poi, vabbè. Minione cinque. Josan, due. Ok, quindi si muove l'idda che è la ladra. Ora, si muove prima la ladra, secondo il chierico, terzo io, quarto il guerriero e quinta la maga. Allora, muoviamo prima l'idda. Ora, per forza di cose, prima deve muovere lei. Sì. Ah, sei punti in movimento. Quindi, lei si era appena mossa, ma si può rimuovere. Due. Tre. No, non si può muovere in diagonale, mi ero dimenticato di ditelo. Due. Tre. Sì? Quattro. Cinque e sei. Quindi si mette davanti alla porta e dall'altro lato. Sì. La balestra sua. No, lei ha dei pugnali. Cosa ha di arma? C'ha dei pugnali. Le armi a distanza, visto che è un'arma a distanza, perché sono pugnali dal lancio. Ok? Sì. Pugnale, volante. Possono bersagliare qualsiasi basta che sia in linea di vista. Ok? Quindi è in linea di vista, perché lo vedi se tracci una linea anche in diagonale è in linea di vista e non ci sono elementi scenici a bloccare. Quindi hai fatto un movimento e ora lo puoi attaccare. Per attaccarlo l'arma dice, oh, perché questa qui ha una doppia scelta, no? Una scelta che devi fare te. Allora, o fai l'attacco normale. Quando vedi che hanno due colonne, due tipi di dadi, vuol dire che è una scelta. O fai un attacco normale e tiri due dadi gialli, tipo questi qui. O fai un attacco potente e tiri due dadi arancioni e un dado nero. Quindi virtualmente fai più danni. Però se sul dado nero esce la stella hai perso l'arma. Quindi questa qui se ne va via. E tu non c'hai più arma da corpo a corpo. No, no, tiro due gialli. Ok. Quindi tiri due gialli. Ricordati che lui ha armatura 1. Basta che i tiri si guardano semplicemente i risultati che escono. Hai fatto un danno, però lui ha una armatura e quindi l'ha assorbito. E non è successo niente di particolare. Ora andiamo all'ora di iniziativa. Il secondo è il Chierico, Josan. Ok, Josan ha 5 punti in movimento. Quindi Josan è questo. Quello. 1, 2. Poi si apporta sempre, giusto? No, la porta conta solo 1. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Sì, può andare anche avanti o è l'attimento per te. 5 lo metto qua. Sempre così per la casella, ma in diagonale. Ok. L'ho fatto io perché mi stava dando fastidio. E poi c'ha linea di tiro. C'ha linea di tiro e compro 1 punti in giro. Ah, ok. Se faccio una stella... Non può mai andare oltre il massimale del suo livello, però. 2 gialli e questo qua con la stella. Sì. Allora, quello con la stella niente, però è fatto 2 danni. E lui ne assorbe uno con l'armatura. Quindi ha subito il Goblin un danno. Quindi questo Goblin qui ha un danno. Ora tocca al Goblin. E io lo posso muovere come mi pare, perché i mostri sono miei. Non è che hanno intelligenza artificiale. Il Goblin... Allora, lui non potrebbe uscire. No, invece potrebbe uscire passando... Penso a Dolori. Allora, facciamo una cosa. Questo Goblin... Quanto c'ha lei di armatura, Lidda? Andiamo un attimino. Lei di armatura c'ha 2. Il Chierico c'ha... No, c'hanno tutti 2. Lui si muove di 5. 1, 2, 3, 4... Andiamo qui. Vai, te lo voglio mettere qui. 5 e attacca... Lei, Lidda. Attacca con 2 gialli e un arancione. Non c'è dadi per difendersi in questo gioco, eh. È molto, molto veloce. Quindi ho fatto 2 feriti. Lei c'ha 2 di armatura. Quindi l'assorbiti tutte e due. Non gli ho fatto niente. Fine del turno dei mostri, perché ovviamente c'ho solo lui. Ora 4. Redgar. Redgar, che non può attaccare in diagonale. 4 punti in movimento, quindi 1, 2, 3. Sì. Lo giro perché mi dà fastidio se lo lancio. Ricordati che lui ha già un risultato in più quando va in combattimento. Allora, lui attacca con dado arancione. Voglia, sono quelli più forti. Hai detto. Quindi 2 danni. 2 danni, ne assorbe 1, 1. Ok. Vai. Mi sono attaccato, quindi tocca a mia lì. Sì. Lei ha 5 punti in movimento. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5. Però lei ha dardo incantato. Sì. Guarda dardo incantato, cosa dice? Lo puoi tirare? Sì, lo puoi tirare da qualsiasi distanza, penso. Guarda un pochino. Cosa dice la descrizione? La distanza qual è, scusami? Non lo vedo. No, quello è il costo. No, questo qui è il costo in punti magia per il mago e in punti magia per il chierico, capito? Ah. Fai vedere un attimino. Se lo usa il mago gli costa 2, se lo usa il chierico gli costa 3, perché questo è un incantesimo da mago, quindi al mago gli costa meno. Però c'ha... Voglio l'arma, voglio usare l'arma. Sì, però non c'è visuale, vedi? Perché se è bloccata, c'è la visuale bloccata da un'eroe che ti sta davanti e quindi la visuale è bloccata, non puoi tirare con l'arco. E quindi con l'incantesimo? Con l'incantesimo dado incantato, sì, perché per il fatto che sono dardi a ricerca incantata, capito? Che te li può tirare verso qualsiasi cosa e ti rincorrono il nemico, come in Dungeon e Dragon sono normali, quindi quelli sì. Ah, devo per forza tirare con quello allora. Allora, scala 2 punti magia da lei. Quello lì, sì. Vai su 3, c'ha sempre 2 d'armatura e tiri i dadi li elencati. Il dado blu che poi sarebbe quello viola. No, è rosso e giallo. Ah no, rosso e giallo, è vero, mi sembra che ci fosse un blu. Boia. Allora, 3, lui c'ha 1 d'armatura, gli fai 2 danni e muore. Morto il goblino, si leva dalle balle, qui sparisce e va qui. E ora che ti può muovere liberamente come ti pare? Sì, perché non ci sono mostri. L'iniziativa rientra in campo solo e esclusivamente quando si apre una porta. Sì, però ovviamente prima uno, poi l'altro non li può muovere. Ora li potresti rimuovere, chi ti pare? Rimuovo l'idda, ma prima di muoverla cerco se nella stanza ci sono trappole. Cerca nella stanza. Quindi lancio questo dado, tolgo questi, che sennò faccio confusione. Due occhi. Niente. Ci sono trappole? Non ci sono trappole, no. Ok, allora siccome ho fatto questa azione qui posso muoverla? Sì, puoi muoverla di... Sei molti e questa qui, banana, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. La muovo qui, così. Ok. Sì? Non mi scorda. Red garra, dov'è? Questo qui, lo muovo di quattro. Uno, due. 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 Così non vedranno nulla però. Ah? Così non vedranno nulla perché c'è sempre davanti quando le muovi, è il casino. Ah, cosa va? Vai. Uno. Due. Ok. Lo lascio qui, perché lui lo voglio mandare una va scoperta. Poi mi ha lì, cinque punti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Qui si parla. Le palle, sì, le spalle. Poi gioca in cinque punti. Allora qui. Uno. No, andiamo andando, no, eh. Allora, uno, due, tre, quattro. E lo lascio così. Ok. Però posso rimuovere di nuovo. Sì, le puoi rimuovere, come ti pare a te. Quindi Red garra apre la porta. Quindi ora, ok, apre la porta, metto quello che c'è e poi si va con le iniziative. Uno e due, uno e due. Allora, ci sono due colonne che servono a fare scena, ma a volte anche a bloccare la visuale, ma in questo caso qui bloccano ben poco. Ce n'è una qui, due colonne che regano il soffitto, una qui e finisco il setup un attimino e poi si tira l'iniziativa. E... Due scrigni. Addirittura due scrigni. Uno qui e uno qui. Sì, però mi puzza tanto di trappole qua vicino. E che non lo posso dire niente. Allora, non ci sono mostri, quindi non si tira l'iniziativa. Quindi starebbe sempre a lui. Boholida. Ah, lui, quindi salta il turno, il guerriero, che c'è anche una nazione ok. Sì. Uno. Due. Entra... No? Ah, sì, 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 sì. C'è ragione di te. Sì, entrata. Entrata. Dove è andato? Scala secondazione. Questa qua? Per la secondazione cerco. Due occhi. Niente. Ma che parola? Ma non c'è neanche la trappa. Eh, aspetta, aspetta. Eh, lungo il dungeon, ecco. Vuol dire che c'è una stanza che è piena. Quindi lei ha finito le azioni. Boh. Boh. Ok. Red Gar va avanti. Giusto? Sì. Quattro punti, era qui, quindi uno... No, però aspetta. Red Gar ha già finito il suo turno, eh. Poi mosso loro e ora devi muovere loro dietro. Ah, sì, sì. Perché comunque un senso ci deve sempre essere al turno. Cinco, lui era qua dietro. Sì. Uno. No, aspetta. Sì, vanno messe quelle di ira. Uno, due, tre, quattro e cinque. E lo metto qui perché mamma mia è il casino. E la secondazione si potrebbe rimuovere, eh, ancora. No? Uno, due, tre, quattro. Ma c'hanno due azioni di movimento, eh. Non è mica ira questa, questa, se si possa muovere una volta sola. Li può muovere anche due volte, eh. Ok, vabbè, allora. Ho cinque in teoria, quindi uno, due, tre, lo metto qua. Lo metto qua alla fine. Ok. Lo metto qui. In teoria ha finito il turno, quindi vi inizio un altro turno. Sì. Quindi prendo lei di nuovo. Se lo metto. Uno, due. Uno, due. Prendo il tesoro. Ma ci rimane sopra? Sì, sopra. Ok, quindi tre. Sopra, quindi leva questo token qui. Aspetta però. No, trappole, trappole. Ah, quando? Scusa l'artefatto, vai. Quando apri un forziere, pesca una carta e decidi se tenerla o no. Se non la vuoi, scartala e pesca in un'altra. Puoi riprovare fino a tre volte. Se peschi un tranello, questo si aziona subito e il tuo turno finisce. Vai, allora, pesca la prima, guarda se ti garba, se no la mettiamo sola. Arco della Fenice. Tira frecci con penne di Fenice che prendono poco in aria. Ma lo può usare chiunque? Sì, però per ora ce l'ha lei. L'ha trovato lei per ora, quindi lo devi dare a lei. Poi devi fare un'azione di scambio nel caso. No, non lo voglio. Niente. Non tre volte, quindi c'è anche due. Le voci dei dannati. Tranello, ho perso il turno. No! Era meglio tenesselo. Allora, questo qui è... Tranello, le voci dei dannati. Forze inosservate controlla la tua mente. Avvicina e ti attacca l'eroe a te più vicino con l'arma di cui disponi adesso. Quindi, ti avvicini all'eroe più vicino che è mia lì. Cosa devo fare? La devi attaccare. Sì, la devi attaccare con l'arma che hai. Pugnale. Eh, lo dice Tranello che è tipo degli spiriti che sono entrati nella testa. Quindi due gialli. Una ferita e le cermature due. Niente, che culo. L'ha subito. Vai. Ti ha fatto. Quindi lei ha finito il turno. Sì. Però è sopra il tesoro. È sopra? Il tesoro è finita lì. Sì, vabbè, tanto c'ha un'azione sola. Perché se l'altro lo voleva prendere, il tesoro non può. No, lo prendo uguale. Ah, ok. Lo prendo uguale, vai. Vabbè, allora facciamo entrare Erga che forà, c'è rimasto lì. Quindi uno, due, tre. Ma scusami, non ci sono altre porte qui quando... No, no, no. Eh, cazzo. Eh, cazzo. E sennò dove vai? Ebbè, c'è un'altra porta qua giù. Non l'hai detto, bravo, eh. È chiusa o aperta? È chiusa. No, sono tutte chiuse. Uno, due, tre. Quattro. Ok. Quattro. Poi. C'ha due mosse, eh, ti ricordo. Quattro, sì, sì, sì. No, sto calcolando. Quattro, poi... Uno, due, tre, quattro. Allora metto qua. Vai. Lui deve farla in pull a tutti quanti. Poi muovo lui. Uno, due, tre. Quattro. E lei... E lei... Faccio prendere il tesoro. Ok. Lei prende il tesoro e pesca la prima. Cos'è? Pozioni. Pozioni delle orribili risate. Biblia per far crover a terra un mosso che non potrà reagire. Il mosso per Don Turo. Nella bisaccia. Ah, nella bisaccia qua. Beh. Eh, buono. Ok. Ha fatto... Se è mossa, ha preso il coso. Sì. Quindi ha fatto più la... Comunque d'ora in pull, le carte iniziativa te le do sempre. Sì. Anche se non ci sono mostri né niente. Almeno non si fa casino a muovere gli eroi. Vabbè. Vai. Quindi tocca lì. Questo toglilo. Tocca lì. La metto qui. Redgar per la porta. Apri la porta? Ora, che si apri la porta, d'ora in avanti te le do sempre le iniziative. Sì. Fa conto la porta è qui. Su questa dove c'è la righetta, qui. Ah. Allora. Ora aprendo. Casino un po', eh. Cosa? No, no. Perché più che altro sono queste porte, ma te devi calcolare dove è la riga. Dove è la riga è la porta, semplicemente. Allora, ce n'è. C'è una porta qui. Chiuse. Poi abbiamo la bellezza di due scrigni. Qua. Così. Era un gioco molto semplice. E poi abbiamo la bellezza di due brutti ceffi, che sono il goblin di prima, così ho già la carta, che era il 3, e lo metto qui. E il suo fidato amico, che è il numero 5, che è qui. Quindi mi prendo la carta del 3 e del 5. Ora sì, ora si fa le iniziative, quindi si rimescola un attimino. Io ovviamente ce n'ho una sola per muovere tutti i mostri. Allora. Poi vabbè, le giri come ti pare. Tieni, intanto te le do. Cosa? E la prima dovrebbe essere... E la prima dovrebbe essere... No, la seconda è l'Ida. Danciando solo. Ok, Josan. Oh, è lì davanti. Che è il chierico. Ho paura di muoverlo lì. Mi serve l'Ida contro la... Se ci sono troppo le fasi. Vabbè. Josan. Arrivederci amico. Allora, 5 punti. Da 1, 2 e 3. Metto qui. E poi tira con la balestra. Cosa fa? Tiro, lo faccio tirare con la balestra. Due gialli. A quale? Aspetta, fammi preparare un attimo. Da, è questo. A questo qui. Che è il... Dovrebbe essere il 5. Il 5, sì. Vai. Hai fatto due colpiti e anche loro, al solito, sono tutti uguali. Ci hanno armatura 1. Quindi, il 5 ha una ferita. Vai. Ok. Poi, ho fatto due azioni. Quindi, in teoria, ho spesso con lui. Sì, con lui è ferito. La faccio entrare. Quindi, 1, 2, 3. E tiro Dado. Quello lì per vedere se ci sono trappole nella stanza. Ah, vuoi vedere se ci sono... Sì, perché non mi fido di camminare così alla cieca. Questo qui. Niente. Vicino a me non ce ne sono. No, no. Non ci sono. Sì, siete. No. Ma no, ma la più vicina, eh. Sì, dico. Quindi, anche se ce n'era una qui, la vedevi. Capito? Niente. Ok, ok. Non ci sono trappole. Non ci sono trappole. Le l'ho mossa. Tocca mia lì. 5 punti. Quindi, 1, 2, 3, 4 e 5. E 5. E la faccio attaccare con l'arco. Sì. Arriva lì. Sì. Quindi, 2 gialli e 1 con la stella. Sì. Cosa fa la stella? Mi ridà un punto di incantesimo. Quindi, quello lì che vi spiegate prima lo riprendi. In più fai due danni a quale? A quello già ferito, penso. Al numero 5. Vai. Ok. Ora tocca a me. Perché ne hai messo soltanto un attimo in più? Sono due danni. No, due danni gli hai fatto. Un puntino di quelli vale due? No, ma hanno uno d'armatura. Ah, sì. C'hanno l'armatura anche loro. Sì, ok. Allora. Allora, loro possono fare... Anche il dungeon master può fare due azioni. Però non può fare due attacchi. Massimo, posso fare due movimenti. Quindi, loro si muovono di 5. Direi che fa... 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2. Quindi, questo ti arriva in corpo a corpo. E questo fa... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. E arriva in corpo a corpo. Quindi, io ho finito il turno. Perché non potrò detto. Ho già fatto due azioni. Tocca a Redgar. Sì, a Redgar. Ah, Redgar sta... Non può passare sopra le mostre, è l'unica cosa. 1, 2, 3, 4. Può attaccare in diagonale. Ah, cazzo. Ma di quanto si muove? Lui di 5? No, di 4. Scusa, dov'è? È lì? No, qui. Non può fare così. Lo fa 1, 2. Giusto? Sì, no. Lo metti qui. 3 e 4. Non si può un movimento in diagonale. Ah, è vero. 1, 2, 3. E dove va? Non può passare sopra i mostri. No. Cazzo. È un casino, aspetta. O lo metti qui o lo lasci lì. 3, 4, sì. Lo avevo detto prima. Però hanno due azioni. Può fare un altro movimento. Non può attaccare, ma può fare un altro movimento. Oh, così nel prossimo turno è a posto. Ora, l'iniziativa rimane sempre questa, eh. Perché non è che le carte si rigirano sempre. Torna sempre Giosan. Quindi riparte il primo e tocca a Giosan. Siccome non possono attaccare in diagonale... No, no, no. Nemmeno mostri. Faccio 1. Solo le armi a distanza attaccano in diagonale. Ok. Ah, no. Lui sì poteva attaccare in diagonale. C'ha l'arma a distanza. Ti conviene stare fermo e farlo attacchi. Appunto. Oh, ho pensato bene allora. 2... A questo? Sì. Quello è l'1. Sì. No, scusa. Sì, il 3. Quindi un danno perché c'è uno d'armatura. Lo riattacco. Ok. Sì. Punto mangi recuperato. Sì, ma tante gianne. Però siccome sono già a Massimo... Gli ha fatto un danno, però niente perché ha assorbito. Ok. L'idda. Che sarebbe con la piccolina davanti a quell'altra. Lei è la ladra. Decido di attaccare... No. Lui già. Non vuoi provare che l'ho pesante? No, no, no. Perché io non ce l'ho sfiga. Niente a tirare... È un litro da mare. Niente. Assorbito. Assorbito. Ci faccio un'altra volta. Niente assorbito. Assorbito. Che sfiga. La mia lì. Eccola lì. La toporrerà. Decido di attaccarlo coi dadi coi magici. Sì. E mi consuma due ricordi. Due, sì. Perché sei... E quindi l'armatura sua scala una. Vabbè. Sono fatti... Però sono forti gli incantesimi. Almeno. Speriamo che dovete mettere la gufata. Tre, due ferite a quale? A quello già ferito o a quello no? A quello davanti. Quale? Questo? Sì. Al tre. Perché se lo facevi al cinque moriva. Ma alla mia sinistra è uguale? Allo stesso, sì. Perché i dadi incantati sono una cosa magica che inseguono. Quale vuoi fare? Dimmi te. E io metto punti ferita. Vabbè, dai. A quello ferito? Vai. Almeno il cinque. Si leva dalle balle ed è morto. Ok. Quindi il cinque era questo qui? Sì. Questo è morto. E lui rimane qui. Un attacco l'ho fatto. Posso fare un altro attacco ancora? Posso fare un altro attacco? Sì, però faccio questa volta con l'arco e le frecce. Non lo puoi fare con l'arco e le frecce, con lei? Perché c'è lui che ti blocca la visuale? No, il mio lì è. Lei è qua davanti. Ah, scusa. Pensavo stessi... Ok. Ok, ok, ok. Sì. Recupero a meno un punto riposo. Quindi ho due di armatura. Perfetto. Ora toccava al numero tre? No, al numero quattro, che so io. Lei ha due di armatura però ancora. E vabbè, sono davanti a lei, attacco lei. Faccio un attacco, perché i mostri ne possono fare solo uno. Anche vista è un'inculata per il Dungeon Master. E ti ho fatto tre ferite, c'ho due di armatura e uno la prende finalmente. Quindi lì, scali. No, non è Josa, ne è mia lì. Ok, quindi da subito è un punto ferita. Tocca al cinque, che è Redgar. Era Regar, comunque è ben uguale. A Regar? Eh. Vabbè, Redgar. Sì, di Skyrim. E ora attacca. E ora lo crepo di mazzaro. Allora, un danno l'ha già fatto. Due danni. Due danni, c'ho uno d'armatura, quindi due ferite. Cioè, una ferita. Ok. Se riparte, turno uno, sempre Josa. Quindi attacca con... Si sa, che devi cerbottare. Attacca con la... Balestra. Balestra. Niente. Buona, niente. Secondo attacco. Bene. Diciamo che è forte la balestra. Bene. Diciamo che con la balestra lui è... È il numero uno. Che putt... È ubriaco, il torino. Ha bevuto. Fine. Tocca al due, che è Lidda. Aspetta. Allora, se la muovo, se faccio così posso attaccare in diagonale. Sì, se hanno armi da tiro, sì. Sì, allora. Due gialli. Quindi una ferita. Si attacca un'altra volta. Ma, morto. Morto. Un bel demonio me lo potevano dare, eh. No. Qualcosa di più grosso. No, la prima missione è normale, che sia semplice. Morto. Ora, comunque l'iniziativa rimane sempre questa. Quindi lei ha finito il turno. Ora tocca al tre. Mia lì? Vai. Mia lì. Mia lì si muove gli cinque. Però qui c'è una porta. E lì ci sono cose. Uno, due, tre, quattro e cinque. Ok. La può muovere e ci hanno due azioni, eh. No, non c'è trappole, te l'ho già detto. Mi puzza di strano. Eh no. No, no, non c'è trappole. Non lo puoi perché non c'è trappole. No, hanno due azioni. Falli fa un altro movimento. Mi sbaglio sempre. Non è... Uno, due, tre, quattro e cinque. Ok, almeno se c'è lì. No, perché è un'azione, però intanto ci sei arrivata. Ah, vabbè. Quattro, ma non c'è mostri. Quindi tocca al cinque. Regga. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok. Basta. Basta, ora si riparte dal primo, che è Josan. Josan ce lo lascio qui. Aspetta. Siccome la porta è qua. Sempre dove c'è la riga. Uno. Non so se aprire. La vuoi aprire o no? Vabbè, la apro. La apri? Allora. Si gira. C'è un po' dura. Così. Te sei dalla parte di qua. Ora rivelo tutto, però fai una cosa. Mescolale. Queste qui le mescoli e poi dopo le dai e le dai te. Mescoli la modina perché ogni volta che si riapri cambia l'ordine. Una colonna, due colonne. Quindi vedi questo, una colonna qui. Questo. Secondo me questo gioco, se lo fondi con tutte le cose che trovi dentro a Dungeon Saga e di hero questa, senza guardarle, e a di hero questa diventa un capolavoro. E c'è una porta al centro. Una porta al centro, ovvero qui. Non sarebbe più bellina, metteci la roba di hero questa. Anche una libreria, una cavolata. Qui non c'è nessuna porta? No. L'unica porta che vedi è laggiù. E questo è quello che vedi dentro la stanza. Quello è quello che ho lì. Quindi quella porta, in questa stanza non si interessa? No, no, no. Quella stanza lì non c'è nel Dungeon. Non c'è. C'è sulla missione, c'è sul tile ma non c'è nella missione. Allora. Bisogna rigirla comunque le iniziative. Rigiriamole. Io sono il 5, grazie. Tanto non c'ho nulla. Josan, sei più il primo. Che pareva? Tre. Che ricovera il capogruppo? E due. Vai. Allora, Josan. Lo faccio qua dentro. Uno. Uno. In diagonale no, eh, ricorda. Lo so. Uno, due e tre. Ok. Lo lascio lì. Sì. Perché lo voglio lasciare lì. Vai. Poi, lì da... Dov'è lì da? Ah, è qua. Lì da lì. Uno. Due. Tre. Quattro. E fa subito il coso del... Vai. Dove è? No. Niente. Non trova nulla. Poi tocca al 3, che è Redgar. Uno, due, tre. E poi, vai, leva il coso. E questo è quello che trova. Cos'è? Incantesimo. Ma Redgar? Incantesimo non lo mette nella bisaccia. È un'arma. Però lui non la può usare. Perché ovviamente... No, perché comunque gli incantesimi le poi anche... Cioè, gli oggetti, le armi che c'hai, l'equipaggiamento, può anche passarle a altri eroi. Intanto lui se lo mette qui. Ok? Se lo mette qui come arma. Praticamente c'ha un'arma a una mano e un altro e un incantesimo. Capito? Perché se c'aveva un'arma a due mani, poi non lo poteva tenere. Ok? Quindi, visto che c'ha la spada e l'incantesimo, l'incantesimo non lo può usare. Non lo può usare, però lo può passare nel caso a un castante o uno del genere. Però il problema è che deve aspettare il prossimo turno, visto che ha finito tutte le azioni. Sì, non può, assolutamente. Vabbè, mia lì prende... Che tocca mia lì. Sì, prende il tesoro lì. Tesoro. Tranello. No! All'è. Eh, la stessa cosa praticamente all'amico. Tutte le creature viventi nella stanza perdono un punto ferita? Eh. Ah, no! Non hai fitti sui non morti. Allora, ha perdito un punto ferita tutte e due. Creature viventi, sia te che lui. No. Vai, tanto vabbè, per un punto ferita. Ho capito, però, beh. Vai. Red Garo, se ne sbatte il cacchio. Allora, lei ha preso il coso. Sì. Si può muovere. Lei si può muovere. C'ha un'altra azione. Uno, due. Tre, quattro, cinque. Ok, dopo di lei a chi tocca? Tocca a te. Tocca a me che non ho niente, quindi li tocca al numero uno. Josan. Josan. Io ho paura di muovermi qui. Non muovo e passo subito a Linda. Mi sembra... Che lancia il dado. Ne trova una, ovvero quella più vicina a sé. Aspetta. Ne trova una. Qui. Orche miseria. Seconda azione. Può ancora cercare, eh? Sì, certo. Fino a che non gli esce la mano. Ne trova un'altra che è... Allora, uno, due, tre. Siamo entrati nel punto giusto. Ah no, ah, vedi? Perché la porta era qui. Quindi lei è qui. Non era lì la porta. Vabbè. Cambia... No, invece sì, era lì. Le mettiamo tutte a posto. Qui. E quella che trova è... Qui. Porca miseria, lì vicino. E questa non l'ha trovata qui, ti chiedo scusa, ma era qui. Vai, ora torna tutto. Allora, lei ha fatto le sue azioni, fa parella? Sì. Che si gira. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok? Ok. Poi tocca, cambia lì. Va, uno, due, tre, quattro e cinque. Sì. Uno, due... No, aspetta. Ero qui, giusto? Sì. Uno. Due. Ah! Sulla trappola è caduta. Due, lì. Ce la lascio lì. Vai, cinque sono io, niente. Si inizia. Io c'ho paura di muovere, perché io sento che c'è qualcos'altro. Mi puzza sta cosa. Vado subito all'indale, amore. Vai, tira il dado. No! Non puoi più cercando la stanza. Oh, ma guarda a caso. Non posso più cercare, ma mi posso muovere per disinnescare. Sì, sì, quello sì. Quindi faccio uno e rimango qua. No, ce l'ho andata sopra. Ah, ci do andata sopra. Però se ci vai sopra ora la fai scattare, perché non c'è abbastanza azioni. Ah, tutto andata, volevo mettermi lì e poi... Ok. Quindi turno dopo. Sì. Tre, che è Redgar. Uno, due, tre, quattro. Passano i turni. Ok. E li voglio lasciare fisso lì. E ritocca al numero uno, Josan. Lo lascio sempre lì, perché voglio sempre l'idda. Vai, l'idda. L'idda. Allora, per disinnescare la bomba, cioè la trappola... Tiro il dado. Tiro il dado questo qua. Quello lì. Allora, mi ci devo mettere sopra, giusto? Sì. Un'azione ci vai sopra, quindi un'azione l'ha già finita. E poi tiro questo. Sì. Ok, l'ha disinnescata. Quindi la trappola, la prendi, perché lei ha bisogno... La metti sul tabellone. Te la metti qui, sul valore di uno. Quando arriva a tre, piglia, cosa diceva, punti esperienza? Due punti ferite in più. Qui. Quando ne raccogli tre, lì dà recupero due punti ferite. Ah, sì, sicura. Vai. Niente. Guarda. Non lo voglio anche vogliere, voglio. Guarda, guarda. Dobbiamo camminare un pochino. Mi sembra di giocare a prato fiorito. Uno. Due. Sì. Sì. Tre. Basta. Ok. Vai. L'ansia. Allora, poi. Questa fiori. La lascio lì con lui. Eh. Se si guardano. Allora c'è la bombatobia. Ede, io c'ho paura. Te si stincio. Tocca a te, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno, quindi li tocca a Josan. Josan, muoviamoci un pochino, quatti, quatti. E tu fa, guarda, facciamo la barriera tipo... Ne ho uno, due e tre. Disinnesca? Sì, no, la guardo. Sì. Vai, disinnesca. Se la mette sulla scheda. Un altro regalino. Ok. Questa lampada video ne vuol sapere di stasù, eh. Oggi una volle di lavorare. Tutte le volte cade. Ok. Vai. Eh... Ha fatto tutte le azioni. Rifacciamo tutto quanto. È inutile fare tutto quanto perché io sono sicura che c'è qualcosa altro qui. Ma tanto non può più cercare. Sì, appunto, rifaccio tutto il turno. Sì. Rifaccio tutto quanto, però va e ri... No, l'ultima che ha mosso era Lidda. Quindi ora si va al trick e Redgar. Sì, ma non le voglio più muovere perché sono sicura che se ce n'erano già due... Allora chi tocca ora? Allora faccio Redgar, ricordi. Un... La trappola qui, le trappole in questo dungeon dicono... Dai, figurati, è una botola, perdi un punto ferita. Mamma mia, gli avrà fatto un... Gli ha... Gli ha... Ma che cazzo ti dici? Gli ha... Gli ha appena... Gli ha appena scalfito la scarpina. Vai. Quindi... La seconda azione... Apro. Giusto? Ok. Apro. Apro. E la faccio rimanere qua sull'uscio che guarda. Allora. No, vabbè. Cosa c'è? Cosa c'è? Hai trovato... Hai trovato il paradiso. Allora. Ce n'è. Partendo dall'alto c'è o non c'è? Fai vedere un attimino. Sì. Partendo dall'alto sì. Quindi. Uno. Due. Tre. Quattro. Però i nemici? Sennò avevano già vinto la missione. Metà e metà. L'hanno fatto proprio simmetrico questo dungeon. Metà qui. Metà qui è la stanza del tesoro. Quindi sei di una fortuna assurda. Però ci sono. Lui. Poi. Lui. E poi. Chi è? Il quattro. E lui. Quindi goblin tre. Goblin cinque. Mi manca goblin quattro. Bugbear non è. Bisogna rifare cosa. Sì sì. Vai. Le venti. Quindi devo togliere qua. Sì sì. Quello di toglierlo. Goblin quattro. Ogni volta che si apre una porta. Goblin quattro. Non devo aspettare di aprire la porta. Allora. Il quattro è questo qui. Questo dovrebbe essere cinque. Ok. Questo è cinque. Quello laggiù è tre. Vai. Vai. Giriamole. Ora dovrei avanti sempre questo. Io ho il tre. Oh. Finalmente muovo un pochino prima. Vai. Due. E uno. Gioseon. Oh. Gioseon. Sei sempre primo. Gioseon. Dov'è Gioseon? Eccolo. Vai. Uno. Due. Come cinque? Sì. Muovi cinque. Ah. Sì sì. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. E posso attaccare da lontano. Puoi attaccare. Vediamo un po'. La porta sarebbe qui. Ma sì. Quello te lo faccio attaccare. Vai. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Quale è attaccato? Quello lì. Quello era il quattro mi sembra. Il tre. No il quattro. Il quattro. Questo qui è il quattro. Una ferita. Eee. Smetti questa voce. Ehi tu sciamo. Vada. Via lì. Via lì si muove di cinque. Vada. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. No. La porta è qui. Sulla riga sempre. Eh. Dov'era qui? Sì. Uno. Due. Tre. Sopra in testa. No. Dovrebbe usare due movimenti. Se no non li bastano. Uno. Eh. Fine delle sue azioni. La cacata ho fatto. In questo momento. Ho fatto una stronzata colpa tua. Pappa mia. Tocca a te. Tocca a me. E io ne approfitto di questa azione qui. Eh. Ovviamente. Che dici? Stronzo. Ma come sono stronzo? Sì. Allora. I goblin si muovono di cinque. Ma perché? Sì. Ah. Uno. Due. Tre. Allora. Oddio. Io ci vedo. Guardate va. A parte. Quando tiro daddi si vede fino a qui. Qui. Cioè si vede sta zanna. Ma sì che si vede. Quattro ferite a mia lì che c'ha soltanto due di armatura. Io li scalerei due di vita a mia lì. Ebbè. L'hai scaricata qui? Eh? Era lì perché era già stata ferita due volte lei. Cazzo. Ed è morta. No. Non del tutto. Ora faccio. Uno. Due. Attacca quest'altro goblin. Ma sei stronzo. Eh. Per forza. È a mia misura. Tre ferite. Quindi due. No. Non c'ha più armatura. No. Ce l'ha. Scusa. Sì. C'ha livello di armatura due. Una ferita morta. Allora. Quando un eroe muore. Viene sotto tal cosa. Si leva. Sì. Però non sono morti perché te. avresti sempre la possibilità di resuscitarlo. C'è lei stesa. Praticamente la posso rianimare? La puoi rianimare solo con l'incantesimo di resuscitare del chierico. È buona. E dov'è? Eccola lì. Quando tocca a lui. Ah aspetta. Io c'ho un altro mostro ora eh. Io c'ho un altro mostro. Quindi faccio. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Bravo. Si fa conto che lei è... Ti metti sopra mia lì? Sì. E attacco lui. Chi è lui? Redgar. Redgar. Non ti conviene mi sa. E invece l'altro. Due. Lui ha due d'armatura e niente. Ci sono rimbalzato sopra. Il turno è sempre lo stesso. Si riparte dal numero uno che è Josan. Josan. Tocca a Lidda. Lidda è a Redgar eh? O no? Ah no è vero. Scusa scusa scusa. Boia. La faccia di... La faccia di... La faccia di... Uno, due, tre, quattro. No è... Si può passare sopra i miei mostri. Ah si è vero scusami. Cinque e sei. Scusa scusa è vero. Ora attacca con più uno. Bravissima è vero. Con più uno. Il game master ha sbagliato. Un attacco con più uno. Quindi già una ferita l'è fatta. Due. Due danni. Qual è questo qui? Il goblin. Quello di quattro. Quattro. Quindi al quattro un'altra ferita. Ok. Poi sono mossa attaccato. Redgar. Redgar. Che lungo al pacco al corpo spacca dai. Tira l'arancione e fa anche lui più uno. Sempre. Ogni attacco. Quindi due ferite al quattro. Sì. Ne becca una. Vai. Ne faccio un'altra. Morto. Il quattro è morto. Per quello che hai fatto a mia lì. Con quella voce dice Redgar. Fine. Poi? A Joseon. Si inizia a Joseon. all'epoca. Potrebbe provare a risuscitare. Appunto. Riporta in vita. Lelei restituisce fino a quattro punti feriti e quattro punti incantesi. Ne支 me. Andrei vicino nell'evo morto per risuscitarlo. Sì. Ci sei. Ci sei. Allora. Usa l'evevpunti magia. No no. Quello non vanno eh. Non devi scartare. L'evevpunti magia. Quanti te ne chiede? Quattro. Vai. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Ok. E lei torna in vita. Mettigli punti ferita che ti dice l'incantesimo Quattro, quante ne riprendi E magia La rifulli Quindi retorno in vita Qui Ora il due tocca a mia lì Brava, così può agire subito Io li farei Tirare con gli addi incantati Però aspetta Uso sta pozione E li faccio perdere il turno A sto stronzo qui Lui che è il Cosa c'è scritto dietro? Cinque Cinque Lo tappo Vai Ti faccio perdere il turno Perché praticamente L'umore dalle risate è stato tutto a parire Cazzoli Cazzoli Attacco quest'altra sinistra E qui i dardi Quelli lì incantati Quindi uno rosso Gioseon Bene Il primo non fa niente E levati i punti magia Due Ora vuoi attaccare un altro dardo incantato Con la balestra Con l'arco No 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 Con l'arco Perché Se no mi toglie Lo sai cosa Armature Due ferite Quello lì Quale è attaccato Le due? Questo qua Andiamo pieno dietro Il tre E che scemo Si è creato L'ho tappato E per forza E tre Vai Ok Ora tocca a me Ora si vendicano Però sono Uno è tappato E allora E allora Lei quanti punti Lei c'ha meno punti ferite La devo ripicchiare Un'altra volta Via Allora Allora Ah ridi ora Vai Tre danni meno Quanto c'ha Dal metodo Due Uno solo Cazzo no Vai Se riparte il giro Gira 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 Sceglierò Tawash No ma cosa giro Di nuovo Infatti Ma ma te beve Eh Togli rubaturi Lidda 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 Uno due E attacca questo strozzo Che tanto quello lì No ora sei risbloccato Aspetta Quando toccherà a lui Ti devo suonare Ah lo devo attaccare Ma scusa E ferma un attimo Io non ti voglio dire niente Però perché le mossa Fai due attacchi Stai ferma Tanto c'ha pugnata al lancio Vedi lo faccio a vantaggio tuo Lo butto un culo da solo Lui era il tre Quindi una ferita C'ha ragione C'ha ragione Quando c'ha ragione Vedi poi dici un taiuto Sto stronzo Allora niente Non le fa Non le fa Niente Non ha servito Ha servito 5 Red guard Non può attaccare attraverso No Uno Due E tre E si gira Sto stronzo E il cinque Vai E se ti crepo Di mazzate Che mi hai fatto incazzare Hai ucciso il mio lì Uno Uno però più uno Due Però questo è il cinque Una ferita al cinque Ton Rinizia Numero uno Sai Rinizia Posso attaccare Ma scusa ma stanno qui posso attaccare anche così? No Perché c'è la linea di visuale bloccata da un eroe Se mi metto così posso attaccare? No Perché c'è la linea di visuale bloccata da un eroe Ora si impalla il sistema Il sistema ha smesso di funzionare Adesso se lo metto così? Sì Sì puoi attaccare Vai Quale attacchi dei due? Attacco quello lì C'è un botto di perire Carini Questo casca ritiralo Niente assorbito Ma perché C'è chi vuole? Poi due Mia lì Mia lì Mia lì Una mia lì Le urni No Ora spero Non è rispetto della roba Lo vedi Mia lì cosa fa? Sto per alco fratto Con l'arco? Quale? Qua la recupero Uh Recupero Un punto anche Allora due ferite Le ne fai una E il secondo attacco Cosa fai? Sempre la due Oh vai Tocca a me Tocca a me Tocca a me E loro tutte e due Picchino la mia lì Mi sembra Ma sempre mia lì? Ma mi sembra di sì Ma basta Ma perché no? Allora Primo attacco sul mia lì No Guarda la dob Sì Ho fatto Quattro danni Lescia due di armatura Scala di due punti ferita Per primo attacco Vai Via No 1-2 Ho uno E ora c'è il secondo attacco No Tutte e due L'assorbiti Che co- Dai l'assorbiti Vai del culo Mamma mia C'è anche Lidda 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 Attacca la numero 3 Si vede Vabbè Ma perché c'è il gomito Gioseon Morto Giù Vai morto E l'ultimo Mi prego Non mi uccidete Sono buono No Sei punti Uno Due Tre Quattro Ma Poi Attacca Attacca Con l'altro Barangini Tre ferite Quindi gliene fa due E rimane con un punto ferita Che è morto Due ferite Morto Ora Senza stare Aprire gli screen Perché il gioco dice Che le armi Le ho già No Se no te le faccio pescare Si fa una foto però le carte Perché nella prossima missione Ok Si tiene tutto così Si la roba che hai trovato Te la porti dietro nelle missioni successive Ovviamente perché se no Sarebbe brutto Relegarlo soltanto alla missione Però Gli oggetti che hai trovato Ora te li do io Casualmente Tanto Uno Due Tre Quattro Sei screen Te ne do sei Ovviamente se esce la trappola Ve le osa Le te le becchi E poi dividitele te Per come ti pare Al momento che le hai divisi Ci si fa una foto a personaggi Comunque ragazzi Tanto la partita è finita Perché deve soltanto Aprire gli screen La partita è finita qui Come avete visto È un gioco Molto 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 veloce Come HeroQuest La differenza di HeroQuest È che in questo gioco Gli eroi possono fare Due volte la stessa azione Anche due volte attaccare Due volte muoversi e tutto I mostri no I mostri possono tutt'al più Muoversi due volte Ma non attaccare due volte Questa missione qui È stata molto facile Perché ovviamente Grazie al cavolo È la missione di partenza Su 11 Ma va sicuro che Andando avanti Fra dungeon Trappole e quant'altro Ne vedete di corte e di crude Ora Una cosa che mi piace più Di HeroQuest In conclusione È che In HeroQuest Tutti possono fare tutto Cioè il barbaro Grosso Con la spada addumani Che sembra Conan Può cercare le trappole Ma come le cerca le trappole Insanale Meno dove cercarle Capito È il tontolone Con la spada addumani Invece in questo gioco È bello Che proprio Alla dungeon Sì Ognuno ha il suo ruolo Il chierico cura Il mago Cassa La ladra Cerca le trappole E il guerriero picchia Cioè è bellina come cosa Già mi garba di più No Magari Visto che gli elementi scenici Fanno pena Perché Sono poveri Arte povera questa Come la chiamo io Di usare magari Quelli di HeroQuest Dungeon Saga Infatti O anche di Advance HeroQuest Ci sono le porte belline Che sono molto gaiate Se ci avete direttamente Ragazzi O Dungeon Saga O HeroQuest Degli elementi scenografici In plastica dura Cartone o qualcosa Ma queste vanno bene Le colonne Più che altro le porte Infatti noi Dalla prossima avventura Che faremo Metteremo le porte di HeroQuest Che sono più belline Anche da vedere E gli screen di HeroQuest E anche di Dungeon Saga Ci mettiamo direttamente Quelli lì Adesso vediamo Vediamo un pochino Comunque ragazzi Fateci sapere cosa ne pensate E vi ricordo Ancora una volta Che ho una copia Di questo gioco In vendita Edizione italiana Quindi se vi interessa Contattatemi privatamente Sulla pagina Facebook Perché lo vendo E vi assicuro che è un gioco orario Ed è bello da morire Ciao ragazzi Alla prossima Ciao Ciao Ciao